Un volata! Io vivevo solo per la moto, dice devi venire con me a fare il mondiale, perché gli occhi non hanno, è come un bicilindro. Sono andato giù senza soldi, con il biglietto solo per andare, mi sono rotto tre vertebre, un braccio e un altro. La passione era tanta. Il meccanico era Guidino Mancini, che era già ai tempi una figura mitologica. Allora succede questo, perché lui non era partito bene. Travi dentro, mi ricordo, i suoi di dietro magari quando andavano un po' cadevano. Ci sono momenti brutti e momenti belli, momenti bellissimi. E' importantissimo le persone che ti si incontrano. Perché dei campioni del mondo ce ne saranno tanti che vanno più forti di questi che ci sono. Però se ci vuole fortuna è prendere il treno tuo.